buonasera a tutti eccoci di nuovo qui ad astrologia e cartomanzia ciao da stefania ciao da paolo e da tiziano allora siamo di nuovo qui con questo appuntamento quindicinale con questa trasmissione e diciamo subito che questa settimana non sono arrivate richieste via mail tranne una che è arrivata oggi pomeriggio però è molto generica la richiesta però questo ci dà modo anche di spiegare meglio quelli che sono i limiti sia dell'astrologia che della cartomanzia come anche vanno fatte le domande perché questo nostro ascoltatore si chiama Giancarlo ci chiede semplicemente mette dai suoi dati di nascita e dice che vorrebbe sapere che cosa lo attende nei prossimi mesi ma è appunto una richiesta molto generica quindi ecco diciamo che questo ci dà modo di spiegare alcune cose che in realtà già sono state dette le ha spiegate sia paolo che tiziano però ecco possiamo partire da qui visto che è l'unica mail che ci è arrivata per ora sì allora intanto diciamo questo c'è appunto quest'unica mail adesso risponderemo perché non rispondiamo però poi agli ascoltatori che sono in linea possiamo dire che intanto ci possono fare delle domande e poi chi vuole invece di una domanda se non ce l'ha ci abbiamo il nostro mazzo di ludi lescott perché ogni mazzo di tarocchi cia le sue caratteristiche e proprio nel tipo di risposte che da alcuni non si possono anche chiamare tarocchi no per esempio ci sono le 99 chimere di lorenzo stuni bellissime peraltro e che però danno delle risposte proprio sul destino su cose così ludi lescott è come se fosse da un dei consigli come mazzo per valutare una situazione del presente del passato o del futuro e quindi possiamo estrarre una carta e questo quello di ludi lescott è il mazzo che io preferisco in assoluto non tanto per i disegni che comunque sono molto belli ma un po neri devo dire ma per appunto il libretto di accompagnamento che è veramente bellissimo quanto ai disegni che sono di un disegnatore straordinario che si chiama patrizio evangelisti che ha disegnato i tarocchi della golden down e sono veramente uno dei mazzi tarocchi più bello che sia stato fatto a cura di giordano berti e questi sono un po neri perché perché ludi lescott è una almeno così dice il libretto d'accompagnamento è una cartomante di san francisco che ha vissuto talmente tanti infermi nella sua vita che ha voluto creare questo mazzo in cui ha voluto far vedere delle parti oscure della vita però per dare una speranza e lei scrive che appunto ha disegnato ha voluto questo mazzo con colori anche volutamente cubi perché quella quella la sua vita quella il colore della sua vita però fa fa vedere come dalla parte oscura della nostra vita si può trarre un insegnamento per uscirne allora veniamo invece a giancarlo appunto che fa una richiesta che è un po generica perché ci chiede quali sono le previsioni astrologiche su draghi sull'italia e su unione europea poi dice anche cosa mi devo attendere nei prossimi mesi talmente generica appunto questa domanda che veramente appunto non sappiamo cosa rispondere però spieghiamo perché non si possono fare previsioni astrologiche su draghi perché su draghi sull'unione europea dietro a questi fenomeni quindi a un draghi dietro a un unione europea eccetera ci sono delle forze che sono anche forze magiche quindi a meno che uno non sia un veggente come steiner o come yogananda che infatti avevano previsto per un periodo del genere stane aveva addirittura previsto che in questo periodo avrebbero vaccinato l'umanità per impedire il progresso spirituale dell'umanità e quindi ma loro erano veggenti di livello elevatissimo normalmente però con su queste cose ci sono delle protezioni energetiche esoteriche magiche per cui spesso non si riesce a leggere nulla cosa si riesce a leggere talvolta si riesce a leggere qualcosa collegato a una singola situazione per esempio mi ricordo tiziano l'anno scorso prima del lockdown faceva delle letture vedendo che tutte le situazioni che leggeva erano bloccate e si sbloccavano a giugno ad esempio alcuni dicevano mi devo sposare a maggio come andrà il matrimonio e lui diceva mante sposi a maggio ti sposi a giugno e non capiva perché tra l'altro mi ricordo bene in quel periodo tiziano che era venuto quel dubbio che le sue capacità di visione fossero alterate dice ma c'è qualcosa o qualcuno mi ha messo un blocco perché non riesco proprio a vedere cioè tutti quelli che mi propongono le situazioni è come se fossero bloccati ma ora non è possibile statisticamente che blocchino tutti e poi invece quando arrivò al lockdown disse ah ecco non era vero che lui era bloccato era effettivamente un blocco reale che lui vedeva nelle vite delle persone tant'è che io mi ricordo benissimo che gli chiesi ma allora secondo te quando finisce il lockdown e lui mi disse i primi di giugno come infatti fu perché perché aveva visto che ad esempio persone che non si sarebbero sposate aprile maggio come era previsto a giugno sì e poi vide anche questo me lo ricordo bene che alcuni che gli avevano chiesto domanda molto materialista diciamo ma ci sta anche non nel consulti cartologici cartomantici non è che per forza necessariamente bisogna non è che nei consulti cartomantici bisogna per forza necessariamente arrivare a solo a cose spirituali no quindi gli chiedevano il pranzo come sarà lo posso organizzare in quel ristorante lì e lui vide che i ristoranti avrebbero servito a giugno qualcosa un servizio che non era all'altezza delle loro normali aspettative delle normali possibilità ecco che abbiamo capito anche perché perché chiaramente dopo il lockdown molti avranno difficoltà a provvigionarsi di materie prime eccetera e quindi ecco che cosa voglio dire con questo quindi che si riesce a vedere talvolta la singola situazione sulla singola persona che dipende dal contesto generale ma pretendere di fare una lettura delle carte magari si potesse fare su come andrà l'umanità non è facile non sempre ci si riesce e spesso ci si riesce ma si sbaglia sì io posso aggiungere che i tarocchi funzionano un po come fosse una lente di ingrandimento quindi se tu gli dai un setting specifico da ingrandire con le carte si va benissimo se però gli dai un qualcosa di molto grande da vedere e anche se lo ingrandisci rimane comunque un qualcosa di molto grande ad esempio prendendo ad esame soltanto l'Italia fare dei giri di carte per capire l'andamento dell'Italia si può fare magari a livello politico ma molto generale per capire per esempio potrebbe uscire nella stessa lettura che alcune regioni ne beneficiano e altre invece hanno dei dei peggioramenti e ecco riuscire a capire tutte queste cose da una singola lettura che comprende un puzzle così complesso insomma non è facile ovviamente si ricavano poche informazioni tra l'altro posso aggiungere rispetto a ciò che diceva Paolo prima quando facevo queste letture per tante persone è proprio il fatto che lo facevo per tante persone che avevo capito che stava arrivando qualcosa di di grosso anche se dalle letture non sono riuscito a capire qual era esattamente il tipo di mirancia perché io da queste letture la percepivo un po come se arrivasse una specie di temporale molto brutto e che quindi era un qualcosa che vedeva coinvolti tutti tutti in qualche modo sarebbero stati toccati da questo temporale però era un temporale che appariva soltanto nelle zone che riguardano l'esterno delle persone quindi nessuno sarebbe stato toccato direttamente da questo temporale quindi vedevo questa cosa che c'era nell'aria e che riguardava tutti ma nessuno dei miei clienti questa cosa veniva diciamo toccava la sua interiorità la sua vita concreta quindi non riuscivo a capire qual era il tipo di minaccia avevo capito che era qualcosa che esisteva nell'aria ma non a livello diciamo concreto poi a tutt'oggi posso dire che se la pandemia è sicuramente reale il virus è reale tutto quanto però la stragrande maggioranza degli italiani l'hanno vissuta soprattutto a livello televisivo questa cosa quindi l'hanno vissuta a livello di informazioni ma non ha toccato direttamente la loro vita o meglio l'ha toccata ma non a livello di malattia a livello di restrizioni beh sì perché l'ha toccata a livello economico tu pensa a tutte le persone in cassa integrazione a quelle che non percepiscono proprio nessuno stipendio che sono tante non ci dimentichiamo che molti lavoratori in Italia erano in nero e questi non risultano neanche nelle statistiche però ci mantenevano la famiglia questo lavoro in nero e si ritrovano senza lavoro e per non parlare poi appunto dei lavoratori delle aziende eccetera la ristorazione è quel settore che abbiamo visto tutti come è stato più colpito nell'immediato ma non solo la ristorazione anzi anche tutto l'indotto pensiamo alle lavanderie che lavoravano con non solo con diciamo la roba che gli portava la gente normale ma anche per esempio con il lavaggio delle cose dei ristoranti e qui non ci hanno avuto più niente perché la gente non si muoveva di casa quindi non porta la roba in lavanderia chiaramente e i ristoranti manco e tutti quelli che fornivano la birra, il vino, le bibite eccetera Gnognato è in Germania non in Italia dirige una fabbrica di birra e per un anno non hanno venduto niente quindi rischiavano il fallimento adesso si sono riprese e tra l'altro stanno vendendo molto di più quindi potrebbe potrebbe darsi che si riprendano ma non è detto perché qui a livello mondiale vogliono distruggere tutto non si fermeranno finché non avranno distrutto il distruggibile e quindi è possibile che arriveranno altri lockdown insomma questo è prevedibile ma non lo non si prevede dalle carte è l'andamento che si capisce intuitivamente a cui ci vogliono portare cioè non ci vogliono portare a migliorare la situazione non c'è nessuna volontà di migliorare c'è la volontà di peggiorare stanno proprio instaurando il nuovo ordine mondiale queste sono le nuove modalità di vita che hanno previsto per noi eh sì allora eh sì è quella che viene chiamata la nuova normalità adesso no quindi c'è questa appunto questo nuovo stile di vita a cui andremo incontro e già ci siamo in parte e quindi diciamo a Giancarlo che se vuole poi dei delle cose specifiche un'analisi un po' più nel particolare per quanto riguarda soprattutto se stesso quindi non tanto la situazione in generale perché lui appunto chiedeva anche di Draghi di questa situazione dell'Unione Europea eccetera ma se invece per quanto riguarda se stesso vuole sapere qualcosa di più specifico ci può scrivere di nuovo e magari la prossima volta gli diamo una risposta più dettagliata sì allora guarda a questo punto ci sono delle persone che ci hanno fatto delle domande possiamo passare a quelle e allora intanto c'è Loredana che diceva se gli peschiamo una carta facciamo questa cosa e poi dopo passiamo alle domande più più specifiche sì che sono le carte di Ludy Lescott come abbiamo detto prima allora la straendo Tiziano l'asso di denari allora hai estratto l'asso di denari allora vediamo che cosa ci dice l'asso di denari queste non si leggono al contrario quindi il cuore non si vende si regala il corpo non si compra si seduce questo è il messaggio speriamo che ti dica qualcosa Loredana e adesso possiamo leggere invece le domande più specifiche che ci fanno altri ascoltatori allora sì allora vuoi leggerla tu? ma guarda io leggerei subito una domanda perché gli rispondo in modo immediato perché Monica chiede come affrontare il prossimo passaggio del nodo sud sul nodo di nascita allora intanto mi detti la data di nascita Stefania? allora sì la data è 13 aprile 66 ore? ore 13 e 30 a Lucca sì infatti lei chiede come affrontare il prossimo passaggio del nodo sul mio nodo di nascita infatti dovrebbe averlo penso a breve perché se lei è del 66 tu l'hai avuto il ritorno del nodo proprio qualche mese fa quindi a breve anche lei dovrebbe avere il ritorno del nodo o se non l'ha già avuto adesso io non ho qui sotto mano deve ancora arrivare questo ritorno ma quando arriverà fra qualche mese c'è un discorso generico da fare su tutti i nodi il nodo lunare è una posizione karmica quindi quando c'è il ritorno dei nodi sui nodi avviene qualcosa nella vita dell'individuo che è di tipo karmico appunto e non è prevedibile però cosa può arrivare perché sono eventi che possono essere di vario tipo ma soprattutto possono essere riconoscibili immediatamente faccio un esempio mettiamo che uno abbia nodi lunari nell'asse che riguarda i sentimenti quando arriva il nodo sul nodo tu conosci una persona la conosci sul luogo di lavoro ma non te ne accorgi ti sta pure sulle palle questa persona è un incontro karmico è un momento karmico due anni dopo ti accorgi che ne sei innamorato e che inizia una storia e tu non ti ricordi cioè non ti accorgi dell'importanza del momento quindi talvolta capitano delle cose che noi non ci accorgiamo che in realtà stanno capitando altre volte invece capitano delle cose che sono evidenti ad esempio io nel momento in cui ci ho avuto il ritorno dei nodi siccome io ce l'ho sull'asse 2.8 quindi è anche l'asse finanziaria infatti ho sanato diversi debiti che avevo del passato e sono capitati a livello proprio economico delle cose proprio karmiche addirittura una mia zia in quel periodo mi ha detto guarda ti regalo un po' di soldi perché tanto ce n'ho in più senza aspettare che muoio perché comunque c'è la sua età c'è intanto ve li godete da adesso se no poi dopo con l'eredità sono casini eccetera e però io questo avevo previsto che era qualcosa sul denaro però poi in realtà sono capitate molte altre cose non solo sul denaro ad esempio io ho una carissima amica strega con cui ho da anni un rapporto molto particolare da una parte conflittuale dall'altra però abbiamo un'entità uno spirito guida diciamo così in comune che quindi ha creato un legame molto particolare ma io non avevo capito che questo spirito guida era in comune l'ho capito proprio nel periodo del ritorno dei nodi e questa cosa per me è stata assolutamente imprevedibile nel senso che non erano anni che avevo questo rapporto con questa persona ma sì avevo capito che c'erano delle entità che agivano sulla nostra vita in modo fortissimo ma mai avrei pensato che erano spiriti guida e mai avrei pensato che avevano questa forte influenza nella nostra vita e che appunto era in comune poi io vedevo vabbè lasciamo per dei particolari insomma comunque questo fatto fu veramente molto particolare ma imprevedibile ora i nodi tu ce l'hai nell'asse 10-4 quindi può capitare qualcosa in ambito familiare in ambito non so che riguarda la residenza che riguarda il lavoro ma non è detto che tu te ne accorgerai perché quello che capita può manifestarsi magari dopo un anno dopo due dopo tre oppure si può manifestare in modo visibile con un cambio di lavoro o con qualcosa del genere e niente non c'è purtroppo i nodi è come un film non si tratta solo di aspettare e vedere che succede e poi ci si accorge dopo di esattamente cosa succederà tu Tiziano vuoi dire qualcosa allora sì io ho aperto un giro e diciamo quello che mi risulta da questa lettura è che ci saranno diverse difficoltà con le quali ti confronterai però emerge un dato interessante diciamo che al termine di questa fase ne uscirai ovviamente trasformata e guadagnerai una sorta di chiarezza di visione sulla tua vita e su cui probabilmente cambieranno di poco alcuni punti di riferimento però diciamo il dato più interessante che emerge che non mi parla diciamo delle difficoltà specifiche che tu andrai ad attraversare ma mi parla più che altro del tipo di sentimento che vivrai tu in quel periodo provo a spiegarti la situazione per come la vedo io attraverso una metafora magari un po' banale ma che serve a rendere l'idea è come se tu sarai in una sala dove viene trasmessa una musica davvero celestiale bellissima però questa musica viene diciamo come dire il volume con cui questa musica viene diffusa nell'aria è molto basso in questa stessa stanza ci sarà una persona che è la tua mente che ti prenderà parolacce tutto il tempo ecco tu potrai scegliere in questa fase durante questo transito se ascoltare la persona che dice le parolacce oppure concentrare la tua attenzione su quella musica celestiale che si avverte in sottofondo allora quella musica celestiale sei tu con la tua interiorità se in questo periodo ti sintonizzerai con il tuo sentire ti accorgerai che il sentire dirà di te che sei una persona splendida se invece tu ascolterai la tua mente in quella fase la tua mente ti accuserai di ogni cosa possibile e immaginabile il punto è che la mente sarà forzata ad avere questo comportamento appunto dagli astri però tu puoi reagire a questo se darai retta alla tua mente tenderai a distruggere tutto ciò che hai costruito se invece ascolterai la tua musica interiore è tutta un'altra storia lì insomma quindi ecco ti direi di fare attenzione soprattutto a come utilizzerai la tua mente durante questa fase allora infatti tutto questo che avete detto sia Paolo che Tiziano penso che corrisponda comunque anche al suo secondo commento perché lei ha anche aggiunto dopo non so se però Paolo l'aveva letto forse no aveva aggiunto se è troppo generico mi interessa in particolare il lavoro lavoro in una scuola amo il mio lavoro e non vorrei lasciarlo ma non voglio inocularmi il siero e infatti Monica insomma ne abbiamo parlato anche nella trasmissione precedente con Maria Grazia e quindi sì probabilmente accadrà qualcosa di molto forte da questo punto di vista allora io Stefania su questo punto posso aggiungere che effettivamente dal giro coperto prima avevo avuto la sensazione che ci sarà qualcosa che lei abbandonerà malvolentieri in questa fase di trasformazione che lei vivrà può darsi che l'abbandono sia proprio da riferire al mondo scolastico però c'è un ma e cioè che se è vero che da un lato rischia magari di abbandonare quel mondo è vero anche che dall'altro potrà creare un mondo nuovo e cioè io immagino che tutte queste persone che verranno cacciate per il discorso del Green Pass del vaccino cioè contemporaneamente lo Stato sta creando anche un bisogno di nuove figure professionali non vaccinate e che magari seguono altre persone che hanno bisogno di istruzioni o cose del genere quindi si verrà a creare un sottomondo gestito da persone non vaccinate che in qualche modo possono riorganizzarsi quindi anche qui diciamo se uno risponde in modo spirituale a questo tipo di difficoltà ha altre scamotage altre vie di uscita rispetto al semplice strapparsi i capelli sì e poi aggiungo che non avevo letto questa seconda parte della richiesta di Monica effettivamente riguarda il lavoro dice lei la sua domanda principale infatti i nodi riguarderanno il lavoro quindi sarà un momento molto importante che probabilmente gli richiederà delle scelte a questo punto poi Tiziano ha nel frattempo estratto una carta dal mazzo di Ludilescott e quindi gliela leggiamo perché è il cavaliere di denari e guarda caso è in linea infatti secondo me almeno per come la leggo io guarda Monica dice la carta domina il tuo istinto e si cortese usa la diplomazia per entrare dove altrimenti non verresti ascoltata e credo aver capito che tipo di situazioni ci sono cioè situazioni lavorative in cui talvolta ci sarebbero dei conflitti ma questa carta ti invita ad usare quindi la diplomazia ok posso aggiungere posso aggiungere anche che il fatto che sia uscito il cavaliere il cavaliere ha un atteggiamento particolare a livello diciamo di tarocchi standard perché è una figura che va intenzionalmente verso qualcosa e lo fa con coraggio appunto con l'atteggiamento di un cavaliere quindi tu hai verso questa difficoltà che sta arrivando nella tua vita come anche emerso dalla mia lettura hai due possibilità o diciamo adattarti al ruolo della vittima e quindi subire tutto quello che accadrà oppure alzarti in piedi e andarci incontro a questa cosa è un po' come quando al mare si cerca di superare le prime onde che ti vengono addosso quando si entra in acqua se rimani nel mezzo è capace che un'onda ti colpisca in pieno ti porterà indietro se invece tu ci vai incontro a queste cose puoi reagire molto meglio quindi il cavaliere è sicuramente una carta che dice di non aver paura ecco e Monica dice la carta è perfetta e poi dice anche grazie a tutti e due fortunatamente sto già facendo un percorso spirituale e non intendo ascoltare l'ego ok va bene a questo punto c'è un'altra c'è una domanda di Germana che tra l'altro non mette l'ora non mette il luogo di nascita quindi non gli si può rispondere e invece finiamo direi qui con Francesco però aspetta quella di Germana non so se forse può dire qualcosa tiziano perché Germana chiede sono una prof e non mi vaccinerò mai che dovrò fare di mettermi a questo forse potrebbe fare una lettura tiziano sta già spendendo le carte ecco la previsione astrologica no è infatti a meno che non non ci metta anche i dati quindi con il luogo di nascita e anche l'ora di nascita Germana ma comunque non credo che si possa vedere con l'astrologia perché come abbiamo detto appunto con l'astrologia si può vedere in generale il periodo mentre invece questa è proprio una domanda specifica che cosa devo fare di mettermi Allora quello che posso dirti è che secondo me non ti vaccinerai ti ricordo che è possibile apprezzare soltanto grossomodo i prossimi sei mesi guardando nel futuro io quindi posso parlare per quello che vedo nei prossimi sei mesi della tua vita secondo me nei prossimi sei mesi tu non ti vaccinerai avrai delle difficoltà a scuola però vedo anche che ci sarà una grossa confusione in quel momento intorno al mondo scolastico e non escludo che molti docenti possano in un certo senso approfittare un po' di quelli che sono le lacune nel sistema scolastico attuale similmente a come sta avvenendo per esempio in Veneto con i sanitari e cioè che non li possono sospendere perché altrimenti dovrebbero sospendere anche il servizio è possibile che anche a livello scolastico per alcuni mesi molti docenti potranno utilizzare queste scamotage o anche scamotage come ad esempio la didattica a distanza però ti vedo in difficoltà riguardo a questa cosa quindi tendo a pensare che comunque i prossimi mesi saranno caratterizzati da forte incertezza sotto questo punto di vista anche qui valgono un po' gli stessi consigli emersi dalla lettura precedente cioè verso questo tipo di difficoltà si può reagire in due modi prevalentemente che ovviamente con tutte le sfumature intermedie però da un lato si diventa vittime delle circostanze e dall'altro si diventa interpreti infatti il consiglio è quello di non perdere la lucidità e di fare affidamento soprattutto questo per fortuna è un consiglio che ho sentito dire anche nella trasmissione precedente di sintonizzarsi con l'amore perché sarà proprio l'amore soprattutto tra di noi che ci permetterà di salvarci da tutte queste strozzature quindi per accedere a quel livello bisogna rimanere nell'amore e quindi in loro stessi e non è un caso che a livello sociale mediatico eccetera si stia facendo tantissimo leva sulla rabbia sull'odio sull'ingiustizia eccetera eccetera proprio perché vogliono impedirci di accedere all'amore qui si potrebbe allargare il discorso andando a spiegare che tipo di battaglia c'è dietro le quinte c'è una battaglia di tipo puramente spirituale in realtà tutto il resto è soltanto un predesso però non voglio allargare troppo il discorso del discorso mi è piaciuto molto a parte che in realtà Tiziano mi piacciono molto tutti i discorsi che fai anche quando fai le metafore in cui spieghi alle persone eccetera mi piace molto sì ok vai Stefania leggici la prossima eh scegliamo una carta anche per lei aspetta che stai prendendo la carta di Ludy Lescott da Brava Vergine se lo scoglio io me lo sarei scordato infatti anche io stavo dicendo scegliamo una carta anche per lei allora la carta che è venuta fuori è la Regina di Denari tutti i denari strano però è curiosa questa cosa beh ma forse perché riguardano comunque il lavoro l'ambito del lavoro anche se riguardano molto più diciamo un contesto spirituale però riguardano il campo specifico del lavoro quindi i soldi giusto c'è ragione Stefania non ci avevo pensato cioè sì nel senso vabbè allora Regina tra cento rose scegliene una la più bella in modo che la sua fragranza possa rendere dolce il tuo regno eccolo qua e poi allora vediamo se questa carta dice qualcosa a Germana e quindi adesso facciamo Francesco vuoi leggerlo tu oppure lo leggo io perché prima stavi iniziando a leggerlo tu questo commento allora sì e volevo allora volevo dire che lui chiede ci dà i suoi dati dice vorrei chiedere un consiglio su come migliorare l'influenza della luna per quanto riguarda le relazioni interpersonali e non ho capito che cosa vuole dire e cosa posso fare per usare e amplificare le capacità del nodo sud ma il nodo sud il nodo lunare sud è quella parte carmiera su cui noi non abbiamo nessun controllo quindi non si può né usare né amplificare cioè non si può proprio agire sul nodo e quindi la domanda proprio però c'è Tiziano che vuole dire qualcosa è più che altro un'osservazione correggimi se sbaglio da quello che sto imparando io a livello grazie a te a livello di astrologia l'impressione che ho è che con il proprio nodo sud è il modo migliore di interagire con esso è proprio quello di accettarlo e di abbandonarsi il modo migliore è quello per di scorrere insieme alla forza del fiume se vai contro la forza del fiume ti spazza via ti spezza ti rompe invece se tu ti lasci andare ti culla in qualche modo esatto cullare è una parola un pochino come dire eufemistica proprio perché perché il nodo sud dove abbiamo il nodo sud noi siamo proprio sballottati cioè ci sembra che in quel settore la vita ci porti come su una nave in tempesta quindi cullare è un po' diciamo esagerato però si può imparare a accettare queste botte queste onde un po' come il surf a quel punto impari o certamente diciamo quando ci sono le onde alte devi imparare col surf non a andare contro le onde o a dominare le onde no semplicemente impari a stare in una posizione in cui sfrutti al meglio la forza delle onde la stessa cosa è il nodo sud quindi qualunque in qualunque settore ce l'abbia anzi no vediamo dove ce l'abbia perché ce lo dà i suoi dati mi li detti allora sì i suoi dati sono 6 ottobre 84 ok alle 10 e 28 di mattina ok a Castellammare di Stabia e tra l'altro dice anche che gli avevi letto il tema natale nella trasmissione scuola di astrologia sì allora la sua ora dovrebbe essere precisa perché 10 e 28 quindi il suono do sud è in sesta casa quindi è proprio come dire è proprio il lavoro e quindi lui probabilmente potrebbe sentire nel lavoro una sorta di forza che lo porta e non riesce a per questo vorrebbe dominarla ma purtroppo appunto ah no no sto dicendo una stronzata no il nodo sud ce l'ha in dodicesima casa scusate no in dodicesima quindi no a maggior ragione allora non lo puoi dominare perché perché in dodicesima casa non prende neanche un settore della vita prende tutto perché è l'inconscio quindi significa che tu nella tua vita sei mosso da ma per tutte le scelte sentimentali familiari gli hobby da qualcosa dentro di molto forte che ti fa fare delle cose che sembrano irrazionali alle persone che osservano e attorno a te magari spesso ti diranno ah ma che fai sta cosa sei matto eccetera però tu lo senti dentro quindi non c'è proprio modo di dominare questo nodo sud casomai che cosa si può fare si può cercare di capire quando è un'istanza reale di so karmica o di un'entità che ci consiglia uno spirito guida una cosa che è molto forte oppure che non sia magari la rabbia del momento ecco io vedo che tu hai per esempio un giove congiunto a Marte e Nettuno quindi ogni tanto è possibile che ti incazzi e ti incazzi pure parecchio e quindi devi stare attento per esempio a non farti dominare dalla rabbia questo si e in quei momenti magari eviti di prendere delle decisioni però al di là di questo insomma il tuo istinto sicuramente nella vita ti guida a fare anche le cose migliori tra l'altro quindi sicuramente devi frenare un po' l'irruenza perché c'è una una forte componente c'è una personalità molto forte che può essere talvolta un po' troppo dominante nei confronti degli altri quindi c'è un po' questa tendenza a dominare e quindi devi lagarti un po' diciamo su questo lato qui quando gli impulsi interiori ti portano magari a con gli altri a voler insomma volerti incazzare a voler imporre la tua volontà eccetera però poi al di là di questo insomma lasciati guidare l'altro istinto perché è sempre la cosa migliore tu vuoi dire qualcosa Tiziano? allora io non ho ben capito la domanda relativa alla luna non ho girato sul nodo sud perché immaginavo che avresti ben risposto tu a quella domanda non ho capito però la domanda sulla luna quindi la risposta che posso darti è molto vaga e suona più o meno così devi capire esattamente qual è il rapporto che c'è nella tua vita tra il piacere ed il dolore e in questo ha un ruolo principale l'energia sessuale e il tuo secondo chakra ora non so perché le carte mi hanno dato questa risposta allo stesso modo perché non ho capito la domanda però guarda per quanto riguarda le energie sessuali lui ha una venere congiunta a Saturno quindi vuol dire che da una parte ha dei blocchi a livello sentimentale e sessuale però allo stesso tempo c'è anche molta energia altre volte in altri campi e quindi deve un po' per esempio con questa venere congiunta a Saturno potrebbe avere una sorta di freddezza nei confronti dell'altro sesso ma questo fa parte delle sue caratteristiche insomma tra l'altro con una luna in pesci quindi comunque indica delle problematiche proprio con il sesso opposto che può essere di timidezza di ritrosia di non riuscire bene a gestire i propri sentimenti le proprie emozioni e ci sta questa cosa ma infatti lui ah scusa vai Tiziano giusto poi chiudo volendola dire in altre parole bisogna proprio capire come il dolore sta influenzando la sua capacità di provare piacere ecco sì potrebbe essere così dicevo che infatti lui parla proprio di relazioni interpersonali cioè dice vorrei chiedere un consiglio su come migliorare l'influenza della luna soprattutto per quanto riguarda le relazioni interpersonali e quindi rientra in questo discorso che avete fatto ora non so se lui con relazioni interpersonali intende soltanto ecco appunto le relazioni con l'altro sesso rapporti di coppia eccetera oppure proprio in generale relazioni interpersonali probabilmente intende tutto infatti perché se c'è questo blocco sì anche perché c'è un Plutone in undicesima casa che indica forti dolori ma anche forti piaceri in alcuni momenti proprio dalle relazioni interpersonali con Plutone in undicesima casa si vivono le più profonde trasformazioni della propria vita nel campo proprio delle relazioni delle amicizie talvolta è la posizione di chi sta in fratellanze esoteriche gruppi spirituali eccetera dove lì troverà come dire le esperienze più importanti della sua vita allo stesso tempo siccome c'è un carattere molto forte comunque però c'è anche delle contraddizioni molto forte ma anche molto timido un po' pauroso tipico della luna in pesci e quindi insomma si deve imparare a gestirsi oh e infatti il 6 di coppe è uscito come carta dei Ludilescott il 6 di coppe normalmente nei mazzi tradizionali indica una nostalgia dell'infanzia un dolore nel presente che ci fa rimpiangere un po' del passato però qui vediamo l'udilesco sicuramente dirà qualcos'altro e dice imparare dagli errori significa crescere non oggi però bella sì questa pure ho letta altre volte mi piace molto questa carta il non oggi come dire sì devi crescere però crescerai adesso immergiti in questo dolore e poi dopo però in futuro escine e trasforma questo dolore in qualcosa di positivo tra l'altro è molto pertinente perché una cosa che ho avvisato anche dalla mia lettura ma anche dalla natura della domanda un po' si intuiva e cioè che lui in un certo senso ancora non ha capito esattamente qual è il motivo che lo tiene bloccato quindi anche questa carta di Ludilescott che abbiamo estratto gli suggerisce prima comprendi qual è la situazione e poi agisci per risolverla lui è ancora la prima fase deve ancora capire esattamente il perché di certe cose l'altra ancora per l'oredana sì che l'ha chiesta allora è l'otto sempre di denari no vabbè questa cosa è incredibile tranne questo sei di coppe ma per chi? per l'oredana ah però lei aveva detto dopo riascolto la lettura dell'asso di denari perché ho perso la seconda parte però comunque se ne avete estratta un'altra va bene a Tiziano l'estratta avevo letto dalla chat che chiedeva se estraevamo una carta anche per lei così l'ho fatto ma l'abbiamo già fatto l'abbiamo già fatto ne estraevamo vabbè diciamo che ne abbiamo estratta un'altra tanto insomma beh però sempre denari effettivamente è curiosa questa cosa sì veramente allora comunque questa carta dice ogni strada è la stricata dei corpi di chi ha perso la fede credi in un dio o credi in te stesso ma credi bella anche questa è molto bella sì ah sì comunque peccato che non sia più in vendita e comunque riguardo a queste anche a queste energie no che ecco in questo caso a Loredana sono uscite due carte entrambe di denari e poi comunque anche a Germana mi sembra che era uscita una carta di denari giusto? a tutti tranne all'ultimo ecco sì che è uscito sei di coppia ecco infatti tranne Francesco che faceva la domanda proprio sulle relazioni interpersonali gli altri invece cioè questo mi fa riflettere sul fatto che qualche puntata fa avevamo detto che tutti quelli che avevano fatto delle richieste erano accomunati cioè nel senso che o l'ambito diciamo su cui facevano la loro domanda era lo stesso oppure avevano delle caratteristiche simili astrologiche ecco questa sera ci sono tre insegnanti perché abbiamo avuto Monica che ha chiesto che è un insegnante e ha chiesto proprio per quanto riguarda il lavoro e questo è poi Germana la stessa cosa anche lei è un insegnante e anche lei chiedeva del lavoro per quanto riguarda il vaccino ora è arrivato Davide che tra l'altro ha fatto anche il corso di astrologia e poi dopo lui è diventato anche si è diplomato counselor con una tesi proprio di astrologia e Paolo ha capito chi è questo nostro amico ascoltatore Davide penso che ce l'hai ce l'hai in mente no Paolo sì sì mi ricordo perché mi ha fatto molto piacere avere un allievo che grazie alle mie lezioni ha portato una tesi proprio nella scuola che stava facendo proprio sull'astrologia mi ha fatto piacere perché l'astrologia per me è una cosa nuova quando ero docente di diritto mi capitava che ovviamente avendo scritto libri giuridici alcuni facevano tesi basandosi su argomenti miei insomma però quando è una cosa nuova ti stupisci sempre è come se fosse cioè un po' come boh che ne so il primo 30 è lode che prendi a scuola insomma mi ha fatto molto piacere e quindi me lo ricordo insomma proprio perché appunto non mi sento così esperto in relazione a come ero esperto di diritto insomma di astrologia rispetto ad altri però devo dire che in questi anni molti alcuni sono hanno acquisito una tale padronanza dell'astrologia mi hanno dato veramente tante soddisfazioni sono stato felice di vedere che sono stato capace di replicare anche nell'astrologia un po' quello che ho fatto nel mondo del diritto cioè quindi insegnare trasmettere poi una semplicità che molti altri non hanno quindi semplificare molto le lezioni eccetera allora io direi che c'è quest'ultima domanda di Davide poi dobbiamo purtroppo lasciare perché io ho il problema che alle nove poi c'è un'altra trasmissione quindi dobbiamo e ne abbiamo quindi siamo già a tre ore oltre di trasmissione altrimenti rischio di non reggere insomma vi chiedo scusa ma su Life New andrà in onda una trasmissione con Giorgio Di Salvo omicidi magici omicidi e suicidi magici in cui mi intervistano e sarà anche piuttosto pesante come trasmissione adesso rispondiamo quindi alla domanda di Davide con Tiziano che sta tirando le sue carte ecco sì allora Davide dice anche io docente della scuola precario con contratto fino al 31 agosto il mio timore è di venire escluso dalle convocazioni Tiziano mi puoi dare gentilmente qualche info a riguardo e poi aggiunge anche per Paolo Saturno appena varcato la soglia della sesta casa tacci sua dice Davide eh sì infatti la sesta casa è proprio quella del lavoro guarda caso lui non ci ha dato i suoi dati però la sua era proprio una domanda specifica sulle carte quindi poi comunque l'astrologia lui la conosce quindi penso che si guardi da solo i transiti allora guarda quello che mi esce dal giro è abbastanza simile al giro mi sembra fatto per Germana e cioè mi aspetto nel mondo riguardante i docenti e tutti quelli che orbitano intorno alla scuola ci sarà un periodo abbastanza difficile non troppo diverso da quello che hanno passato i medici qualche mese fa il giro il giro è abbastanza cupo il che mi fa pensare che non avrai particolari garanzie durante il periodo autunno-inverno non verrai escluso pienamente rimarrai comunque un pochino appeso diciamo a questa situazione però la vedo poco soddisfacente e molto ricca di incertezze qui il consiglio è simile a quello che è uscito già per Germana cioè bisogna valutare lucidamente questo tipo di difficoltà e reagire con la creatività che è la cosa migliore che possiamo utilizzare in questo momento se ci pensiamo quelle che possiamo identificare come forze oscure che in questo momento stanno aggredendo il pianeta stanno cercando di incastonarci in degli schemi mentali molto rigidi per elevarci al di sopra di questo labirinto in cui ci stanno incastonando bisogna andare verso l'alto non è una situazione che va risolta orizzontalmente questa bisogna reagire elevandosi e guardando le cose dall'alto così vedrai che ciò che guardandolo dal piano terra diciamo appare come un ostacolo insormontabile guardandolo dall'altro si vedono tante altre situazioni accessorie che magari prima ci sfuggivano quindi il consiglio è di rimanere integri interiormente soprattutto perché se manterrai questa integrità vedrai che il tuo intuito saprà guidarti sì poi aggiungo che il passaggio di saturno che implica una restrizione che lui ha già visto implica appunto che la tua vita in quel periodo in quel settore che è quello lavorativo perché è quello della sesta casa avrà delle limitazioni però il trucco sta nel dire ok prepararsi a queste limitazioni e dire magari lavorerò meno perfetto ho più tempo per studiare cose che altrimenti non studierai in futuro perché quando poi arriverà il momento in cui i transiti ti saranno di nuovo fare volevoli magari avrai addirittura troppo lavoro e non riuscirai a fare delle cose e quindi ci si prepara sapendo che c'è una restrizione in un campo e quindi possiamo fare di più in qualcos'altro ok scegliamo una carta anche per Davide visto che l'abbiamo fatto per tutti e poi chiudiamo allora ha preso oh non è uscito un denaro questa volta è uscito un 6 di spade leggero tu Tiziano 6 allora 6 no no scusa 6 di bastoni ah ecco infatti mi sembrava strano 6 di bastoni mi sembrava strano o di che? l'ho detto a priori così a buffo allora l'amore è troppo grande per rimanere chiuso in una cornice donna le cose che ami ama le persone che amano ciò che ami tu ok ok allora sì è stata una puntata aspetta aspetta no perché mi è venuto in mente un ulteriore consiglio da dare a Davide perché questa carta estratta effettivamente ricalca un po' l'esito della mia lettura se si sintonizzerà nel mazzo di lui di Lescott si parla di amore ed effettivamente è vera come descrizione però se lui riesce a mantenere alte le vibrazioni dell'amore vedrà che riuscirà a trovare degli escamotaggi insieme ad altre persone che col quale si unirà non si sentirà solo e questa sfida avrà tutt'altro sapore insomma ok allora è stata una puntata molto breve ma perché appunto oggi è stata una giornata è tuttora una giornata molto impegnativa per quanto riguarda le trasmissioni ne abbiamo fatto quella con Maria Grazia adesso questa e poi fra poco alle 21 Paolo avrà questa diretta su YouTube con Giorgio Di Salvo e quindi chiudiamo qui però ricordiamo due cose una è l'indirizzo email per scriverci e mi rivolgo anche a Francesco che ha chiesto nei commenti cosa posso fare per questi blocchi se ci vuoi scrivere al nostro indirizzo email magari si può approfondire di più oppure ne parleremo nella prossima puntata comunque l'indirizzo è drag trattino star chiocciola hotmail punto it dove potete anche chiedere non solo fare le domande per la trasmissione ma anche chiedere consulti privati sia con Paolo che con Tiziano e poi ricordiamo anche perché non tutti hanno ascoltato la trasmissione precedente il corso di astrologia tarocchi che si terrà il 3 il 4 e il 5 settembre a Capodimonte provincia di Viterbo non lo so se volete aggiungere qualcosa per presentare questo corso se volete dire che cosa si farà come si svolgerà e poi chiudiamo beh come si svolgerà è semplice faremo appunto il corso di astrologia tratteremo l'astrologia i primi due giorni e l'ultima mezza giornata si parlerà di tarocchi probabilmente parremo di tarocchi anche durante i due giorni però è un modo per vederci per parlare della nostra vita del nostro futuro del vostro soprattutto insomma perché quindi si impara calandosi nella nella propria vita e nel proprio futuro con uno sguardo appunto sia la parte astrologica che è la parte dei tarocchi è valido sia per principianti che per persone magari che vogliono perfezionare la tecnica oppure che vogliono vedere l'astrologia in un'ottica leggermente diversa specialmente nella parte karmica del destino che la cosiddetta astrologia evolutiva o psicologica non contempla e la fusione di tarocchi e di astrologia serve perché è lo strumento di divinazione per eccellenza non a caso dal settecento in poi le fratellanze magiche sempre hanno usato come base dei loro studi per l'inizio del percorso nella fratellanza astrologia e tarocchi i tarocchi sono stati inseriti più tardi l'astrologia è da sempre da millenni la base di qualunque percorso spirituale quindi sono le due basi per chi vuole fare un percorso spirituale perché poi i tarocchi come avete sentito come li fa Tiziano li si fa in chiave evolutiva e spirituale non è semplicemente ah domani incontri tizio oppure attenta che ti licenziano no avete potuto ascoltare il modo di fare di Tiziano che è diverso l'approccio dei tarocchi è lo stesso mio e anche l'astrologia è un approccio un po' diverso non so se Tiziano vuoi dire qualcosa no non vuoi dire niente e poi l'occasione per stare insieme per passare dei giorni bellissimi in un posto questo posto dove facciamo il corso Capodimonte è veramente un presepe c'è questo lago bellissimo questo paese meraviglioso e quindi sicuramente saranno bei giorni intensi impegnativi perché ci ci addentreremo nelle vostre vite quindi sarà comunque impegnativo per chi vuole guardarsi un po' dentro però sarà anche affascinante ok allora un saluto a tutti per chi vuole seguire LifeNew mi risentirete fra poco su LifeNew di gestione di radio e cose del genere bene allora per chi fosse interessato al corso l'indirizzo email è sempre lo stesso drag trattino star chiocciolotmail.it e poi Paolo ha accennato a questo argomento delle fratellanze esoteriche e del dell'insegnamento diciamo sia dei tarocchi che dell'astrologia nelle fratellanze esoteriche e questo era uno degli argomenti che avevamo pensato di trattare oggi se non c'erano richieste e poi invece ci sono state quindi magari la prossima nella prossima puntata parleremo proprio di questo delle fratellanze esoteriche e e quindi l'appuntamento è per dunque mercoledì 18 agosto dovrebbe essere comunque fra due settimane fra due mercoledì sì il 18 agosto e e ci risentiamo appunto fra due settimane di nuovo qui un abbraccio a tutti un saluto da Tiziano e un saluto da Paolo ciao ciao